Guarda, James! Ecco dov'è! Pichu! Sbrigati! Catturiamo il Pokémon! Preso, Pichu! Siamo i migliori cacciatori di Pokémon del mondo! È maleducato! È sparito! Tu non vai da nessuna parte! Ti sbagliate di grosso! Ha scappato di nuovo! Ecco! Ora non lo perderemo più! Speriamo di poter catturare un Pokémon quando saremo grandi! Ma io voglio un Pokémon adesso! James, Jessie, su con la vita! Unitevi al mio Team Rocket! Possiamo catturare tutti i Pokémon come squadra! Benvenuti nel Team Rocket! Grande capo, siamo pronti per una nuova sfida! Sono il miglior capo! Ecco il vostro compito! Catturate Beedrill! Catturare un'ape? Non sapevo che volessi fare un alveare! Al lavoro! Pannulloni! I miei bellissimi fiorellini! Santo gladiolo! Nuova fiore! Ehi! Come va, Pec? Ah... Cosa? Vattene via, brutta erbaccia! Mantieni la calma! Entri nella Pokéball! Stupefacciante! Ehi! Quella sarà nostra! No? Che vuoi fare? Jigglypuff! Posso? Sono la tua più grande fan! Posso avere la tua firma? Oh! Assolutamente sì! Ops! Mi è caduta la penna! Oh oh! Peccata, baby Jigglypuff! Ora canterai solo per me! Che schifo! Non è quello che ho ordinato! È da parte dei tuoi fan! Entra nel sacco! Prendiamo la Pokéball! I miei snack! Pietre fredde e croccanti! Che diavolo sei? Ehi, Jigglypuff! Vuoi giocare? Sei pronto? Pronto! Sasso, carta, forbici! Oh, evidentemente la creatività non è il tuo forte! Sei solo a tirare sassi! Ancora carta? Sì! Ho vinto! Entra nella Pokéball! È stata una passeggiata! Merendine! Allora che va a stanare mia? Sasso, carta, forbici! Tocca a te, perdente! Oh! Cosa? È un bolide? Wow! Questo è un volo da paura! Mandare un bolide nello spazio è sempre stato il mio sogno! Nel prossimo sarei tu! La ciabatta giusta per te, il mio focoso amico! Per me? No! Già! Mai una via d'uscita! E da dentro la Pokéball! Entro subito! È il mio piccolo Insineroara! È il mio Pokémon forte! Non più! A che gioco giocate, ragazzi? Siamo più veloci! La Pokéball è comunque nostra? Sempre voi! L'unica cosa che il Team Rocket può fare è prendere i miei Pokémon! I nostri Pokémon si prenderanno cura di te! Ora sei nella nostra squadra, amico! Occupati di lei! Oh, guarda! C'è Pikachu! Dove? Perdenti credoloni! Lancia piamme! Forse non ha bisogno del gatto pazzoide, dopotutto! Sono troppo giovane e bella per morire! Non potrò mai ringraziarti abbastanza per avermi liberata da un sonnone illenario! Bel cappello! Chi è quell'angelo luminoso? È un Pokémon leggendario! Sono già i raggi! Questo Pokémon dovrebbe essere nostro! All'attacco! Oh no! Sono al sicuro! Ci penso io! Cosa? Dov'è andata? È sparita! Non ho visto nulla! Eccola! Prendiamola! Ancora una volta! Forza! Ancora! L'obiettivo è sparito! Mi dispiace tanto! Mi hai salvato! Mio angelo con un buffo cappello! Non possiamo restare qui! State bene? Ehi James! Cosa stai dicendo? Svegliati! Capo! C'è un nuovo Pokémon! Ehi capo! Abbiamo rubato un'intera borsa di Pokémon per te! Ok! Che c'è? Trovato! Guarda capo è lui! Wow! È un Pokémon mitico! Fa avverare i desideri! Ai tempi in cui il Wi-Fi non esisteva e i dinosauri camminavano sulla Terra l'incredibile Pokémon Girachi scese dal cielo! Possedeva poteri incredibili! Poteva realizzare solo tre desideri! Ma tutti i desideri umani erano fondamentali! Girachi era in grado di dare vita a un altro Pokémon? O addirittura un deserto! O addirittura un deserto! Tuttavia le persone erano poco attente ai loro desideri! E dopo aver realizzato tutti e tre i desideri, Girachi si addormentò per mille anni! Per diventare abbastanza forte da esaudire nuovi desideri! E poi si è risvegliato! Quindi siamo super fortunati! Che fortuna! Posso esaudire il mio desiderio più grande! Anch'io! Vi siete bloccati o cosa? La caccia è iniziata! E così esaudisco i desideri e poi faccio un pisolino! Che storia incredibile! Io sono un'allenatrice di Pokémon! E ho una cotta! È Teo! Il miglior allenatore di Pokémon di sempre! Vuoi che saudisca il tuo desiderio? Devo pensarci un po'! Qual è il mio desiderio? Diventare una principessa e avere tonnellate di denaro? No! Mangiare caramelle e non ingrassare! Ma non è salutare! Potrebbe essere l'amore della mia vita! Oh sì! Mi ha baciata! Sono impegnata a pensare qui! Insomma! Ehi ragazzi! Quale desiderio esprimereste? Scrivete le risposte qui sotto! Ehi Mia! Svegliati! Wow! Come hanno fatto a entrare in quella scatola? Accidenti! Che cos'è? Ops! Meglio metterlo via! Questo mondo è cambiato molto negli ultimi mille anni! Questo è ciò che mi serve! Ehi Mia! Sveglia! Posso avere la Pokéball? Questo casino so io che ti serve! Sceglieremo la migliore Pokéball che c'è per te! Benvenuta al Pokémarket! Ehi! Oh! Mi piace questa! È patetica! Oh ragazzi! È una Master Ball! Per un Pokémon VIP! Santo cielo! È splendida! È costosa! Ma ti meriti il meglio! Ehi! La compriamo! Ottima scelta! Potete pagare! Ops! Ragazzi! Ci serve il vostro aiuto! Volete che Girachi abbia la migliore Pokéball? Allora mettete un like a questo video! Se raggiungiamo 50.000 like otterremo la Master Ball! Ce l'abbiamo fatta! Ed è tutto merito vostro ragazzi! Prendiamola! Mia! Ti abbiamo presa! Non puoi più scappare! Stupida melanzana! Ci sono sfoggite! Entra! E buon film! Altri pirati! Sono libero! Ne siamo sicuri! D'ora in poi niente Pokémon all'interno! Una nuova guardia! E un nuovo Slowpoke! Come posso essere sicura che tu sia una guardia? Fermi! Niente Pokémon! Nascondi qualcosa? Scusa! No! Che strano! Puoi entrare! Dov'è il mio Pokémon? Che fate? Dov'è il suo Pokémon? Niente Pokémon! Né Popcorn! Popcorn? Te li ho portati io! Uscite dal mio cinema! Sono più bello di quella maschera! Ok! Come volete! Perché non riuscite a fare nulla? Siete i ladri di Pokémon più stupidi di sempre! Potrei buttarvi fuori! Ma vi darò un'altra possibilità! Avete bisogno di aiuto! Ecco i miei migliori Pokémon! Incinerò ora! Vai, Legume! Da paura! Ecco il supporto, ragazzi! Rendetemi orgoglioso! Andiamo, Pokémon! Al lavoro! Chiudi gli occhi! Sorpresa! Che colore vuoi? Blu! Per abbinarlo ai miei nastri magici! Che diavolo è quello? Fantastico! Ora basta! Giraci! Tu vieni con noi! Andiamo prima che Mia si svegli! Muoviti! Portiamola dal boss! Aspetta! Ho un'idea! Possiamo esprimere un solo desiderio! Questo è per me! Grazie! Ecco il mio desiderio più grande! Per diventare il mio Pokémon il più forte! Così potrò godere della sua fama! Questo è il mio sogno più grande! E lo formulerò in questo modo! Incinerò ora il Pokémon più forte! Oh sì? Che ne pensi? Che desiderio stupido! Il mio desiderio è un mare di fani intorno a me! Che mi facciano dei regali! Ecco il mio! Vorrei che tutti mi amassero! Non sbirciare! È una lotta leale! Per quanto riguarda lo stupido desiderio di James, lo cancello! Ehi, che fai? In questo caso cancello il tuo! No! Il desiderio è mio! Ridammelo! Non ho tempo per te! Per cosa litigate? Incinerò ora è arrabbiato con me! Quindi è per questo che mi avete svegliato! Non arrabbiarti gattino! È un malinteso! Primo desiderio! Esaudiamolo! Incinerò ora deve innamorarsi di me! Oh, mia Dea! Ma fai sul serio? Nessuno deve toccarli! È chiarissimo! Per favore! Non sparare! Questi sì che sono desideri strani! Ai! È stato un sogno davvero strano! Cosa? Guardati allo specchio! Giraci, dove sei? Buon Dio! Non è un filtro di Instagram! Va bene, Team Rocket! Il gioco è finito per voi! Ti troverò! Ecco che mi serve! Il vostro animaletto domestico! Miau! Sto venendo a prenderti! Sputa il rospo! Dove sono quei due? Non lo so! Bene! Facciamo sul serio! So che i gatti odiano i pettini! Tengo la bocca chiusa! Un cetriolo? Beh, se non lo dirai con le buone, lo dirai con le cattive! Dimmi dove sono! Fantastico! Sei stato utile, gattino! Un nuovo Pokémon! Ciao! Dove sono questi due? Dimmelo! No! Vai via, ragazza! Non mi lasci altra scelta! Cosa? Tutto qui? No, aspetta! Questo martello è pesante! Oh no, no, no! Non la mia tazza fortunata! Questa tazza? Piano! Non farla cadere! Ok, va bene! Ti dirò tutto! Ho impostato un localizzatore GPS per tenerli d'occhio! Sono proprio qui! Grazie dell'aiuto! Tieni e non farla cadere! Che coraggio! La mia tazza è ancora tutta intera! Ai! Questo è per te, bellezza! Giraci! Finalmente ti ho trovato! Sì! Posso aiutarti! Oh, ciao, gattino! Jessie, ma che fai? È pericoloso! La tua pellice è morbidissima! Corri, James! Io lo distrago! James! Aspetta! Oh, le donne sono così confuse! Un bel dramma! James, svegliati! Non puoi assolutamente morire! Ok! Odio le tragedie! Ecco il mio desiderio! Subito! James! Stai bene? Ho visto la luce alla fine del tunnel! Ed eri proprio tu! Non togliere la mia Jessie! Deve tornare nella Pokémon! Sono felice che tu sia vivo! Accuccia, gattino! Corriamo! Oh! Ora mi sento meglio! Sì, certo! Sì! Li abbiamo battuti! Ora ho due Pokémon! Due desideri andati! Ne manca uno! Quando avrò finito, farò un altro pisorino lungo mille anni! Non voglio che tu dormi! Non è giusto! Preferisco che sia tua a esprimere un desiderio piuttosto che qualcun altro! Ok! Ho un'idea! Non sbirciare! Ci sto lavorando! Resta con me! Sì! Ha funzionato! Cosa? Perché non sto dormendo? È quello che desideravo! Che tu restassi con me e non ti addormentassi mai più! Oggi è stata una giornata pazzesca! Quello stupido incinerò al si è innamorato di me! Non è pazzesco? Così mi ha steso con le sue palle di fuoco! Basta lamentarsi! Ecco la vostra nuova sfida! Dovete rapire Pikachu! Al lavoro! Sì, signore! Oh sì! Ecco che ci serve! Prendiamolo! Il nostro tesoro! Vediamo! Non è lui! Ci siamo fatti fregare! Questo non è il Pokémon che ci serve! È Pikachu! E poi ci ha pulminato! E ci ha preso a pugni! Deve stare dietro le sbarre! Sì! Siamo riusciti a malapena uscire! Ma quel mostro giallo non resterà in prigione a lungo! Come facciamo a catturare Pikachu? È pericoloso! Basta così! Noi siamo i Rocket! E dimostreremo di essere dei professionisti! Oh sì sì sì! Siete pronti a conquistare il mondo colleghi? Raccoglieremo tutti i Pokémon in modo che distruggano la Terra! Il pianeta è finito! Ecco il primo Pokémon che dobbiamo catturare! Geodude! È forte! Ecco una rete e due Pokéball per sicurezza! È lui! Sei pronta? Vai, James! La mia fronte di pietra si è fatta male! Arriverò dall'altro lato! Jesse! Ecco il nostro piano! Dov'è la mia pietra? Io e te lanciamo le Pokéball contemporaneamente! Sì! Eccola! È il mio tesoro! Che sfortuna! Cavolo! Passiamo al piano B! Piano B? Quel piano non va bene! Non fare il bambino, James! No! Va bene! Lo prenderemo a mani nude! Peccato! Chi è stato beccato adesso? Andatevene da qui! È più forte di quanto pensassi! Geodude è indincebile! Molto bene! Ecco il mio nuovo Pokémon! Sarà nostro! Dobbiamo togliergli la Pokéball! Consegnaci la Pokéball! Oh no, no! No! Un secondo! Ho un'arma più potente! Una pistola puzzolente! È geniale! Dammi quella Pokéball! Che puzza! Sì! Ciao! Dicci qual è il tuo Pokémon preferito! Scrivi il nome qui sotto! Li aspettiamo! Ciao! Squadra! Il prossimo Pokémon è Jigglypuff! Oh, che carino! No, 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 no! Il suo canto può farti svenire! Ma vi proteggerò io! Fantastico! Queste cuffie mi stanno bene? Dovete avvicinarvi di soppiatto e prendere il Pokémon prima che lei prenda voi! Capito? Cosa? Non sentiamo niente! Ehi! Riesci a sentirmi? Non posso! Fermi! Scusami! Fuori! Jiggly, puoi esercitarti? Canta! Ok! Le cuffie! Ehi, Jessie! Io prendo il nostro adesivo! Mettile un sacchetto in testa! Cosa? Non ti sento! Tu le metti il sacco in testa e io la prendo! Tu? Io? Cosa? Va bene! Oh! Il sacco! Andiamo! Il tuo concerto è finito! Ce l'abbiamo fatta! Entra nella Pokéball, Jiggly Rihanna! Missione compiuta! Charmander è il prossimo! Il lanciafiamme di questo Pokémon è super pericoloso! Ma chi c'è qui dentro? È lui! Oh! Baby Charmander! Se questo video raggiunge 50.000 like, ti mostreremo chi sarà il prossimo a schiudersi! Per l'operazione Charmander vi servirà questo! L'uniforme e le scalpeperoncino! Ok! Prenditi una pausa, amica! Eccolo! Fermati! Farai scattare l'allarmi antincendio! Ciao! Io mi faccio una pausa! Ti lascio al comando! Non c'è niente da fare, James! Oh! Scusami! Ehi, non sai chi sono io? Mi dispiace tanto! Ho preso la Pokémon! Jessie, in arrivo! Charmander! Chi vuole del peperoncino? Smilady, c'è uno spuntino per te! Adoro il peperoncino! Grazie! Forza, James! Ora o mai più! Scusami! Che puoi fare? Ops! Nella Pokéball, Charmander! Fatto! Rocket Team! Ben fatto, Rocket Team! Il vostro prossimo obiettivo è... Eevee! Un'altra simpatica palla di pelo! Potrebbe rappresentare una seria minaccia! Soprattutto per te, James! Non preoccuparti! Ti proteggerò io! Ecco il nostro agli occhiali! Ma non vedo nulla con questi! Ehi, James! Smettila di fare lo scemo! Ehi, Ivy! Ho fame! Puoi prendere una mela se vuoi! Eccola! Andiamo! Ma fai piano! James! Oh, non vedo nulla! Che carina! Fregato! James si è innamorato di un Pokémon! Questa è per te, signor Orecchie Grandi! Mi hai rubato il cuore! Questa è per... Una torta di felicità! Oh, vado matta per le torte! Finisci la tua torta nella ponte! Molivi! Ma che mi è successo? Che ci fate nella mia cucina? In guardia! Piano! Bene! Attacco con la glassa! Non vedo nulla! Ah! Team Rocket! Andiamo! Cosa? Dov'è la mia Pokéball? Oh! È una mamma del cielo! Sì! La pesca è stata un successo! Tutti i Pokémon sono nostri ora! In Cine Roar! Lavorerete sotto copertura, Team Rocket! Oh! Fa troppa paura! Siediti, James! Ma può distruggerci! No! Stai calmo! Ce la faremo! In Cine Roar! È forte! Il suo svantaggio è che non è intelligente! Potete farcela! Questo è un mandato d'arresto per il tuo Pokémon! Cosa? Secondo la Convenzione Internazionale sui diritti dei Pokémon, questo tipo ha abusato della sua autorità! Non lascerò correre! Ozz! Siamo noi! Corgerò denuncia! Guarda i poster! Capito! Rivagli il mio Pokémon! Ora va meglio! Un selfie come ricordo? Ridammi la mia Poké Ball! Dobbiamo andare! Mi vendicherò! Erano loro! Ops! La prendo io, se non ti dispiace! Posso avere dei Pokémon! Sono in missione! Le abbiamo presi tutti! Pulite! Forza! Qualcuno sta chiamando! Ecco il covo dei cattivi! Tutti i Pokémon che sono stati rubati sono qui! È il loro piano malvagio? Ma ci penso io! Aspetta un attimo! No! I nostri Pokémon! Peccati Team Rocket! Che sconfitta! Cosa dobbiamo fare ora? Ehi, voi! Siete in arresto! Boo! Oh! Quase finito! Ehi, prigionieri! È ora di tornare in cella! Incine Roar! Tieni lì d'occhio! E non fate niente di stupido! Ehi! Sei il mio dolce ragazzone! Il mio miglior collega! Puoi prenderti una pausa! È ora di corner! Allora di fronte con lo